Scopri il lato esilarante della vita di tutti i giorni. Un figlio chiede preoccupato al padre durante il telegiornale. Papà, papà, ma con quelle ruspe sull'etna cosa vogliono fare? La pulizia etnica? Mamma, perché hai detto che questa sarebbe stata l'ultima volta che mi porti allo zoo? Perché vedendo papà potresti sentirne la nostalgia. Papà, papà, cos'è il cervello? Zitto! Ho altro per la testa. Papà, eri bravo a scuola? Bravissimo, ero un fuori classe. Sul divano c'è la mamma che traffica con il telecomando e la bambina. Mamma, me lo passi un secondo, perché il primo lo hai già mangiato? Papà, papà, ma cosa succede se prendono uno che ha fatto una rapina? Zitto e corri.